Vai! Stasera al liceo ci sarà la notte bianca. In tutte le varie zone del liceo si potranno fare delle esperienze di carattere culturale in maniera simpatica, divertente, interessante. Ad esempio faremo faccialibro. Alcuni docenti hanno creato delle pagine Facebook di autori del passato e quindi hanno cercato di costruire la loro pagina Facebook se l'avessero avuta. Oppure ci saranno esperienze sul mancabro, un lavoro per musica, parole, immagine sul mancabro. O ancora il nostro greco quotidiano, i bandi latinoamericani, un'esperienza di Skype Room, molte altre esperienze di canto, un laboratorio teatrale fatto da una regista con i nostri studenti del gruppo teatrale. Molte esperienze, svariate esperienze girando perché il territorio capisca quanto sono bravi i nostri studenti e quanto sono bravi i nostri docenti.